Una festa della Repubblica all'insegna del jazz. Il Consiglio regionale partecipa anche quest'anno con il Comitato all'esistente Costituzione alle manifestazioni per ricordare il referendum del 2 giugno 1946 presentate a Palazzo Lascaris. Sul pacco di piazza San Carlo a Torino, i migliori artisti del jazz internazionale italiano, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti e momenti dedicati alla canzone d'autore e al racconto del significato della festa. Questa iniziativa del 2 giugno è un'iniziativa importantissima perché vede la collaborazione del Torino Jazz Festival e quindi della città di Torino con il Consiglio regionale ed è anche un'occasione per valorizzare molti dei talenti che sono qui in Piemonte e a Torino in particolare ed è anche un modo per vivere insieme la bellezza della musica italiana che dominerà questa lunga maratona e che culmina non solo con i Blues Brothers come momento di festa conclusivo ma con il progetto di Niccolai e Stefano Di Battista sulla grande tradizione della canzone italiana.